Ciao a tutti, il 24 e 25 settembre si terrà la terza edizione di Italia 5 Estrelle a Palermo. Come gli altri anni sarà presente, un po' emozionata quest'anno perché per la prima volta andateci però come sindaca e sarà una bella occasione per conoscersi, fare due parole e parlare del futuro della nostra città e del nostro paese. Quindi vi invito a esserci e ringrazio anche tutti coloro che stanno avrando soldi e volontari per far sì che questo grande evento si possa realizzare. Ci vediamo a Palermo il 24 e 25. del futuro della nostra città e del futuro della nostra città.